Fin da piccola sognava di fare l'investigatore e tre anni fa Serena Pieri è arrivata in questura a Piacenza come dirigente della squadra mobile, prima donna a guidare la sezione. Dopo un intenso periodo di crescita professionale scandito da brillanti operazioni, oggi è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. È infatti l'ultimo giorno nella nostra città. Serena Pieri, originaria di Lucca, torna nella sua Toscana alla squadra mobile di Firenze. Non nascondo infatti un'emozione particolare nel salutare Piacenza, soprattutto in questo momento storico. Sono stati tre anni intensi in cui abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato bene, in cui ho trovato e ho avuto chiaramente la possibilità di confrontarmi con una signora squadra a livello istituzionale. I primi ringraziamenti che mi sento di fare sono chiaramente al signor Questore, un grande professionista che mi ha insegnato moltissimo. La Procura della Repubblica, se abbiamo raggiunto i risultati che abbiamo raggiunto, io devo ringraziare chiaramente la mia squadra, i miei ragazzi, una squadra mobile che si è data da fare, che ha raggiunto dei bei risultati in ogni settore. In questi anni, tra le altre, la squadra mobile è stata impegnata in operazioni antidroga contro l'Andrangheta, la tratta delle giovani prostitute nigeriane, servizi a tutela dei minori e poi la notizia che Piacenza aspettava da 23 anni, il ritrovamento del Klimt, trafugato dalla Ricci Oddi. Un'emozione, devo dire la verità, anche proprio da un punto di vista personale, professionale, molto molto particolare. Mi considero onorata e fortunata di aver preso parte a questo pezzetto di storia che comunque riguarda la città di Piacenza e che sono sicura farà anche il futuro, sarà importante per il futuro il rilancio della città, non appena questa epidemia ci lascerà. Questo è il ricordo che porterà con sé di Piacenza. Una città pura, di persone per bene, di persone che tengono alla loro città, che ci hanno aiutato molto, perché non nascondo che tante anche delle attività che abbiamo fatto sono nate proprio dalle segnalazioni della cittadinanza e delle istituzioni. Al posto di Serena Pieri arriverà il commissario Michele Saglio, attualmente in servizio alla Questura di Lodi.